Continuando la nostra carrellata di episodi meno conosciuti, di episodi che potremmo definire anche marginali nella vita di Padre Pio, ma che sono stati invece molto importanti nella vita di tanti che hanno incrociato il loro percorso terreno con quello del futuro santo. Oggi torneremo a parlare insieme col dottor Giuseppe Caccioppoli, figlio spirituale di Padre Pio, che ha frequentato il convento di San Giovanni Rotondo per 18 anni, dal 1950 al 68, ma anche oggi ricercatore attraverso la lettura di tanti libri di episodi della vita del santo. Oggi torneremo a parlare della capacità che Padre Pio aveva di conoscere in anticipo il termine dell'esistenza terrena di alcune persone. Conoscenza che lui in alcuni casi rivelava anche per permettere a queste persone di prepararsi in maniera adeguata a quello che non è la fine di un percorso, ma è l'inizio di un nuovo percorso, di un nuovo cammino e soprattutto per prepararsi in maniera adeguata all'incontro con Dio. Allora, vogliamo narrare altri episodi di questa capacità, di questo dono che Padre Pio aveva? Posso riportare quello che Don Pierino Valleone ha scritto nel suo libro, Padre Pio e mio padre. Don Pierino conoscevo conoscere Padre Pio molto bene e ha assistito a tantissime cose e un giorno assistì a questo pure. Dopo la messa e il ringraziamento, Padre Pio chiamò da parte un uomo e gli disse «Amico mio, fra una settimana lascerai questo mondo, ma non temere, preparati con umiltà, io ti starò continuamente vicino e io stesso ti accompagnerò in cielo». Don Pierino riporta che l'uomo morì dopo una settimana esatta e intorno a lui c'era gioia, perché certamente si sarà avverato che è andato in paradiso. E di questo genere, cioè della capacità di prevedere la morte di una persona, ci sono anche altri episodi? Ci sono tanti altri episodi, come per esempio quello di Nicolino Pompilio. la sorella Maria Antonietta, Maria Antonietta Pompilio, erano tra le primissime frequentatrici del convento, fedeli di Padre Pio e ci avevano questo fratello che era gravemente ammalato. Peraltro giovane insomma. Aveva solo 40 anni ed era in 1920, quindi Padre Pio era da pochissimo, stava al convento. E Padre Pio, le ragazze gli dissero che il fratello stava gravemente ammalato. E Padre Pio disse «Io prego tanto per Nicolino, non mi muovo un istante dal suo capezzale, ma egli dovrà morire, perché ora è il momento buono per lui, se avesse altri dieci anni di vita non sarebbe più così. Così Nicolino morì santamente dopo pochi giorni». Questo episodio da chi viene narrato? Questo è da Padre Paolo Covino, dei suoi ricordi e testimonianze che gli fu detto dalle sorelle. Ecco, rivediamo un particolare che finora abbiamo messo da parte e che comunque tu ci hai raccontato in un'altra intervista di qualche anno fa. Tu prima di iscriverti a medicina e di diventare medico e di specializzarti in psichiatria hai percorso il cammino che ti ha portato a diventare sacerdote. In virtù di questo, cioè in virtù di questa tua competenza che ti deriva dagli studi che ti hanno portato a diventare sacerdote, un'interpretazione di quella frase «Questo è il momento buono, se vivesse ancora altri dieci anni non sarebbe più così». Che cosa significa? Significa che quando noi guardiamo alla vita, a noi stessi, guardiamo sempre vicino, ma se invece guardiamo a Dio e pensiamo che Dio è una cosa immensa e quindi la nostra vita è inserita in una cosa immensa, grandiosa, che è l'al di là, e allora le cose diventano minuzie, la nostra vita diventa piccole cose e d'altra parte se vediamo come la grandezza di Dio è così immena, che ha creato così tanti mondi e tutti questi calassi e tutte queste parole grosse riguardo al mondo, alla fine vediamo che Dio che ha creato tutto questo si interessa delle minime cose, che una persona che poi chi è? Una persona sta in contatto con lui, sta in grazia con lui e riesce a morire mantenendo questo contatto. È una cosa sublime di amore, diciamo, quanto più grande è Dio, quanto più grande è quello che ha fatto con padre Pio, più si scende verso l'uomo e dà questi piccoli regali e così è stata una sofferenza per padre Pio, è una sofferenza per tutti, ma è entrato in un piano grandioso che poi un giorno capiremo tutto, un giorno avremo tempo di capire. Avremo l'eternità. Nell'eternità avremo l'eternità. In una circostanza padre Pio disse che non era il momento e praticamente fece capire che quella morte non era imminente, ma avvenne di lì a pochi mesi, però anche in quel caso l'ammalato sembrava lì per morire e padre Pio sapeva che comunque aveva ancora del tempo, non tantissimo, ma aveva del tempo. Ce lo vuoi raccontare questo? E' quando padre Pio andò a visitare Don Peppino Massa, che era un sacerdote del paese. E questo episodio peraltro è narrato da un frate sangiovannese, quindi che conosce bene le cose di San Giovanni Rotondo. Padre Alberto. Esatto, padre Alberto Lapolito. Quindi lui sapeva bene. E così padre Pio è sceso in paese la sera del 19 marzo 1947, perché era la festa di San Giuseppe. E così andò a casa di Don Peppino Massa per dargli gli auguri del suono mastico. Padre Pio andò a visitare il suo cuore amico, che era malato, e dopo averlo confessato, gli rivolse parole di conforto. E poi disse, Don Peppino non è ancora arrivata l'ora dell'incontro con Cristo, ci vuole ancora un altro po' di tempo. Quindi disse un po' di tempo. Un altro po' di tempo. Non disse tanto tempo, un po' di tempo. E Don Peppino Massa morì nel luglio del 1947. Quindi stesso anno a pochi mesi di distanza. La stessa anno, esattamente. E così successe come padre Pio aveva detto. Mentre ad un suo confratello padre Pio previde un periodo molto più lungo prima dell'incontro con Dio. Eh sì, stiamo parlando di padre Romolo. Padre Romolo che è chiesa a padre Pio. Senti, noi tutti e due siamo quasi coetanei. Vorrei sapere chi deve morire prima. E padre Pio gli disse, noi vivremo a lungo tutti e due. Però io morirò prima. È stabilito che tu morirai molto vecchio. E così padre Pio morì nel 68 a 81 anni. E padre Romolo morì a 95 anni nel 1981. Restiamo nell'ambito dei confratelli di padre Pio per parlare invece di una morte un po' più precoce rispetto a padre Romolo che addirittura ha raggiunto la tappa di 95 anni. Questo è il caso di padre Luca Davico del Gargano che lui stava da tanti anni a Petraccino, al convento di Petraccino, aveva fatto tanto bene. Però capitò un periodo in cui lui era sicuro che la dovevano sostituire e lui era sicuro che la dovevano mandare via da Petraccino e andare a qualche altro convento. E aveva tanto paura di questa idea di lasciare Petraccino. E allora andò da padre Pio per chiedere di pregare che potesse rimanere a Petraccino. E padre Pio gli disse tu resterai per sempre a Petraccino anche dopo la morte. E padre Luca morì in Petraccino il 2 novembre del 49 ed è sepolto nel cimitero di Petraccino. Anche questo episodio viene narrato da padre Alberto D'Apolito nel suo libro. Ma padre Pio non si è occupato solo di confratelli e di figli spirituali dal punto di vista della previsione di qualcosa che sarebbe avvenuto nella previsione della morte. Si è occupato anche di teste coronate. Ecco l'episodio del re Giorgio VI d'Inghilterra. Questo è un episodio che nella sua verità ha tanti interrogativi, ma nella mia opinione gli interrogativi sono tanto belli. Noi sappiamo che la sera del 20 gennaio del 1936 padre Pio si trovava nella sua stanza con il dottor Sanguinetti e il padre Aurelio da Sant'Elea Pianissi che riportò l'episodio. E mentre i tre parlavano, a un certo punto padre Pio interruppe la conversazione, si ginocciò e disse «Preghiamo per il re d'Inghilterra che presto si presenterà di fronte al tribunale di Dio». Tutti e tre si rimessero in ginoccia a pregare in silenzio. La spiegazione la ebbero il mattino seguente, quando dalla radio e dai giornali seppero che era morto il re Giorgio VI d'Inghilterra. E questo è il fatto. Quei due, il dottor Sanguinetti e il padre Aurelio, ma chi c'entra questo re? E così andando un po' indietro, facendo un po' di ricerca storica, noi troviamo una cosa incredibile. Il problema era capire perché, d'improvviso, padre Pio si interessò al re d'Inghilterra che non aveva nessun rapporto con lui. Il re di Giorgio VI era il padre dell'attuale regina. E spiegare degli atteggiamenti sia dell'attuale regina, sia del re Giorgio VI. Giorgio VI, quando fu nominato re, gli disse «No, io non accetterò di diventare re se non cambiate la Costituzione». E la Costituzione diceva che al momento di essere, di giurare come re, lui doveva dichiarare, secondo la tradizione, che il sacrificio della Messa e pregare la Vergine Maria sono superstiziosa idolatria. E gli dice «No, io non dirò mai queste cose contro i cattolici». E allora c'era o che lui abdicasse o che fosse cambiata la Costituzione. E la Costituzione fu cambiata. Fu cambiata. L'accession declaration, cioè quello che lui doveva dichiarare, fu cambiata. Fu accorciata e fu eliminata la frase offensiva contro i cattolici. Ma che c'entra che questo era? Si crede che in corso lui fosse cattolico. E che non poteva dirlo perché un re di Ghiuterra è il capo della Chiesa Angliana. E quindi è tutta una cosa grandiosa che sapremo un giorno. E che ci fa capire anche altri atteggiamenti che ha avuto la regina Elisabetta nei riguardi del rispetto che lei sempre ha mostrato con tanti papi. Ha visto tanti papi. Ed è un altro degli episodi della vita di Padre Pio che continueremo a narrare anche nella prossima puntata. Grazie a tutti.